Pa! Pa! Digni un secondo per favore Arrivo Arrivo Che poi devo fare anche il video per domani Una roba stra veloce Dai veloce però Facciamo anche male la testa oggi Terribile Vabbè ero già pronto per registrare Il video di domani però ti devo dire una roba Che ho fatto e non riesco a non dirtela Praticamente sai che Qualche giorno fa stavo girando nel web Promettimi che non ti arrabbi Ti prego già ho mal di testa non ti arrabbiare So quello che faccio Sentiamo cosa c'è Praticamente circa Due o tre giorni fa stavo leggendo un po' di Articoli sul web C'era praticamente uno che mi ha colpito Che praticamente c'è ora l'iPhone 2G E 3G iPhone vecchissimi papà Che il 2G è il primo iPhone della Apple Che vale ho letto su ebay Circa boh 3000 euro C'è una roba Sproporzionata E invece c'è l'iPhone 3G Che è il modello subito uscito dopo Che ne vale circa 400-500 Però sono i primi modelli Cioè sono cose che col valore Prendono un prezzo Devastante E praticamente Allora però Cioè ero interessato Poi a prenderlo E vabbè Ti spiego Ho fatto una storia Perché io adesso Sai che mi hai regalato l'iPhone 11 Pro Max Due giorni fa Eh sì Ho fatto sta storia Ai miei fan Te la faccio vedere Perché io non ho 400-500 euro così disponibile Aspetta Ti faccio vedere qua Ho fatto questa storia Per i miei fan Aspetta Dove è? Qua Sì Allora io Aspetta Aspetta Non ti arrabbiare Aspetta papà Un secondo Io ho fatto questa storia Era un giorno un po' così Ho detto ma figurati Se qualcuno adesso Ci ho un po' ripensato Questa cosa Capito di prenderla Perché ho detto Beh Che cacchio cambierebbe Però C'è stato un problema L'ho messo online Su ebay Ho fatto lo swipe up E questo ragazzo L'ho messo con il mio nome Vedi iPhone Guarda il suo schermo Ho messo Aspetta che metto gli occhiali Non vedo niente Dimmi Ho messo Apple iPhone 11 Pro Max Di Rimoldinho Quindi mettendo anche il mio nome I miei fan Uno del mio fan L'ho deciso di prendere Anche solo perché era mio Non lo so perché E l'ha preso Vabbè Se vedi il GBP Perché la moneta Il nostro telefono No Ma ascolta Papà No non ti arrabbiare No ma ascolta Io mi sento male No papà Quello che ti ho regalato Sì è un investimento Per il futuro Ma che cosa è investimento Simone Papà Ma se l'ho regalato E eri così contento Cosa cavolo Stai facendo adesso Eh ma allora L'ho provato i primi 2-3 giorni Infatti vedi ho messo usato Per due giorni Eh certo È un uovo di pacca Non l'hai mai usato Cioè l'hai usato Un paio di giorni Appunto mi ero un po' stufato Ho detto proviamo Ma come stufato Un paio di giorni Ti sei già stufato Di un telefono Di che costa più di 1000 euro Vabbè adesso ti spiego Allora Ma che cosa devi spiegare Papà stai calmo Per favore papà Porca misera Ma non ti devi arrabbiare così papà Ah non mi devo arrabbiare Adesso ti tiro un schiaffone adesso Aspetta E allora sono andato Poi ho detto Adesso magari mio papà Si arrabbia Almeno trovo l'altro telefono Di sostituzione Quel 3G famoso Sono andato a comprare E l'ho trovato Ma che bello pa Guarda che spettacolo Ma cos'è sta roba qua Pa È il 2G È il 3G pa Ma sei matto tu Papà abbiamo in mano Una miniera d'oro Ma tu sei matto Io 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 Simone Guarda Adesso ti faccio male Perché Ma cosa me ne frega A me di sto roba qua Cos'è sta roba qua Ti faccio vedere un secondo Ma chi se ne frega Di sta roba qua Ma non ti devi Siamo andati a Un telefono da 1000 euro Cos'è sto roba qua Cos'è Cos'è quel roba qua Cos'è Me lo vuoi sapere Che cos'è Che è quel roba qua Ma porca misera Ma possibile che non ragioni più tu Allora volevo fare questa cosa Perché ho detto Ma chi se ne frega Ma io lo spacco per terra Quel coso qua adesso Sei sempre così cattivo Ma come cattivo Ma Simone Hai dato via il telefono Che ti ho regalato due giorni fa E per comprare una roba così Ma ti rendi conto Cos'è sta schifezza qua Ma chi se ne frega Che roba di antiquariato Ma che non va neanche più Quella roba qua Ti volevo far vedere una roba Vedi ho messo Ma cosa mi vuoi far vedere E ormai papà Ti devi far vedere te ormai Perché uno che fa queste cose qua Non è più senso che Che deve Non so cosa ti devo fare Simone Non ce la faccio più Proprio basta adesso Ma è proprio Non gridare Tante volte che ho detto basta Me ne frega me Guardi la testa non c'è dentro Niente non c'hai Ti volevo far vedere ormai Questa cosa è successa Quindi guarda se almeno Ma chi se ne frega Ho messo Usato per due giorni Asta conclusa Vedi si è conclusa Alle 19.20 Ma te la do in testa A te la sta Chiudi qualcosa lì Sono alle 19.41 Parasta si è conclusa Alle 19.20 L'ho venduto Mamma mia Adesso io chiamo Ma chiamo qualcuno Perché guarda Sinceramente Io non ce la faccio più Ma io non pensavo Ti arrabbiassi così Cioè pensavo Che un po' Ma eravamo così contenti Santa pazienza Vabbè ma tu c'hai il tuo Io c'ho il mio Cosa vuoi Ma se non mi frega Non c'è più Più un telefono da mille euro C'è in mano Un affare del genere Ma ti rendi conto Che cos'è che è Ti faccio Te lo faccio To 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 Sulla testa adesso Con questo qua Allora ho visto Che praticamente È ancora la simma vecchia Ma chi se ne frega Ma sai quanti anni ha Questo qua Cevrà vent'anni Sto telefono qua Vabbè ma per quello Ci c'hai in mano Il meglio che era uscito adesso L'ultimo modello Che ti ho preso Vabbè Paolo Ho venduto a 540 500 Ma che Quanto 500 Ma guarda Io sto male Allora GBP È la moneta Perché è la moneta Ma che cosa me ne frega GBP È la moneta di conversione Chiama eBay Ma chi cavolo Chiama eBay Papà l'ho venduto Guardaci Guarda guarda Leggi qua Ma chi se ne frega Cioè la consegna La stima Al ragazzo Che me l'ha comprato Che è Luca B Alla venerdì 3 Ma 8 gennaio Quindi ormai gli arriva Ma Mi ha dato Ha pagato con Con Paypolla Guarda Simone Io guarda Tu rischi di farmi star male Io adesso chiamo tua mamma Prendiamo dei provvedimenti Simone basta Ti tiro via tutte le password Di tutti questi account Qua di eBay Aspetta L'unica mia paura L'unica mia paura Che ho La mia paura Simone è che tu Non hai più gente Qua niente nella testa Quella Quella è la mia paura L'unica mia paura Che ho Scambiare un iPhone Un iPhone 11 Per un coso così Per un coso così Che non vale niente Io te lo metto in testa Questo coso qua Ma cosa me ne faccio di me Che anche se ha valore Ha valore Che ci avrà 20 anni Sta roba qua Io non lo so più Cosa fare Io pensavo Io pensavo ti arrabbiasse Ma non così tanto Ma chi se ne frega Ma come fa Come fa uno Non arrabbiarsi Con uno che va a vendere Una roba da 1000 euro Per un telefono così Ma io te lo metto Qui in testa Te lo metto Ti ho detto che mi va mal di testa Ma te la faccio venire Ancora di più Mal di testa Comunque volevo Te l'ho detto L'ultima cosa Che praticamente Ho già andato io A darle in posta Stamattina Ma guarda Ma guarda Io ti giuro Mi sento male Non pensare Guarda Chiamo tua mamma Chiamo qualcuno Vedi ho messo Oggetto condizione nuovo Oggetto usato da due giorni Non danneggiato Nella confezione originale Perché ce l'aveva Pa ho fatto 500 euro Questo varrà Tra due anni questo papà Ascoltami un secondo Tra due anni Questo coso papà Varrà miliardi Miliardi 2000 euro Abbiamo in mano Io guarda Adesso Io vado di là Perché mi sento male Guarda Io adesso vado Vado all'ospedale Non dirlo la mamma Ti prego Ok Io vado a chiamare qualcuno Perché guarda Sinceramente Una cosa così Non potevi fare Ci tenevo tanto A quel regalo Che ti ho fatto Adesso piange anche tu Scusami Già ci sono rimasto male Io pensavo che a me Non mi dicessi Tu mi dici sempre Che i beni materiali Non sono importanti Ascolta Simone Tu hai perso il senso Della ragione Guarda E con uno che ha perso Il senso della ragione Ormai bisogna prendere Dei provvedimenti pesanti Guarda Simone Io non me l'aspettavo Una cosa del genere Da parte tua Dopodiché Che mi hai detto Che era tutto Che era tutto bello Che ti piaceva così tanto Basta Simone Ma vedi Io ho fatto questa storia qua Che ti ho fatto vedere Ma non pensavo Che la gente L'acquistasse seriamente Poi era già Appena passato Natale Ma chi se ne frega La gente Sei tu che non devi fare Ste cose qua La gente Se vede le cose Te le compra Ma sei tu che non le devi vendere Simone Ma io guarda Dici che dovevo Venderlo di più A 500 Ma L'abbiamo pagato Più di 1000 1400 euro Costato quel telefono Ma ti rendi conto Ma tu non ragioni più Tu nella testa Non ti è rimasto Più dentro Niente Niente E lo va a comprare Con un coso così Ma io te lo stampiglio Qua dentro Ma funziona L'ho provato prima Ma chi se ne frega Si è già scaricato Ma chi se ne frega Cos'è questo qua Non sarà mica un telefono È una schifezza Quella roba lì E tu sei andato via Il telefono da 1400 euro Per quella roba lì Va Volevo dirti Ma basta Guarda Sinceramente Ma diglielo anche A tutti i tuoi follower Lì che Che non c'è più dentro Neanche un briciolo di roba Nella testa Guarda Ti giuro Basta Adesso non ce la faccio Proprio più Ma poi ti volevo dire L'ultima cosa L'ultima Ma l'ultima Devi dire Che devi andare Guarda Schiaccio F3 Non vale La pagina è quella giusta Certo che è quella giusta Non ho fatto uno scherzo Ma guarda Io adesso Guarda Adesso te l'ho detto Adesso io parlo con tua mamma Saluta tutti i tuoi amici Saluta tutti quanti Tu per un bel po' Non fai più niente Perché E' una cosa sinceramente Che urla vendetta Guarda Una cosa Una cosa così Guarda E' una cosa che Gio le mani nei capelli Cosa devo dire Mi spiace Era un regalo Non pensavo Non pensavo Ci rimanessi così male Guarda Cosa Devo rimanerci bene io Ma tu stai scherzando Ma tu stai proprio scherzando Capito E comunque Volevo farti vedere L'ultima cosa Che se io praticamente Faccio così Questa ha la freccetta qua Praticamente torna al sito normale È un iphone normale Ancora Te l'ho rifatta Schiacciavo f3 Ma l'ho bloccato il tasto Quindi non rifresciava la pagina Veramente Ci sei cascato Vai a dormire Vai a dormire Ti pare che venda Oh comunque ce l'ho questo Ma va Ma buttalo Buttalo giù dal balcone Sta a fare qua Oh comunque no Adesso a parte gli scherzi Non è uno scherzo Questo l'ho preso L'altro ce l'ho di là nascosto L'ho pagato Comunque 150 Sto cosa Te lo devo dire Però quello là Almeno c'è ancora Ma è uno scherzo Questo l'ho pagato 150 Non so neanche cosa si accende Io ti giuro Adesso vado di là A bere un bicchier d'acqua Perché mi sento male Guarda E stavo registrando Ti ho detto di no Che stavo per fare la registrazione Ma stiamo registrando Guarda lì Che c'è la spioncina piccolina Mamma mia che figura Vabbè Scusate ragazzi Ma devo Devo piantare qua la registrazione Perché non mi sento tanto bene Ci vediamo al prossimo video Ma stai male Sì sto molto male Dai no ma Pai ero uno scherzo Non devi stare male Seriamente Oh ma prendila sul leggero Ste cose Mamma mia Io ragazzuoli Direi che per questo video è tutto Per oggi è tutto Mi raccomando Lasciate un like Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Se invece giocate a fortnite Inserite il codice RIMO Nel negozio oggetti di oggi Dai ragazzuoli Io vi mando Un salutone E un bacione Dal king dei troll È tutto Anche oggi Le l'abbiamo fatte Per chi non avesse capito Ho bloccato Il tasto f3 Della tastiera Che è quello Per riflessare la pagina E quindi ragazzuoli Rifresciavo Per fargli vedere Che non era uno scherzo Ma raga Invece Ah Quanto sono cartive Perfido Ragazzuoli Mi raccomando Un like Una bella iscrizione Condividete il video A vostri 5 amici Io vi mando Un salutone E buone Feste A voi Alle vostre famiglie Bella boys E non fate mai Non scambio Per un coso così Che veramente Questa è terribile Raga Cos'è sto coso Però è vero Cioè raga L'ho comprato veramente A 150 Quindi Let's get it brother Bella raga Ciao 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 Grazie.